Qua siamo a Torre Angela in un parco chiuso, cioè chiuso teoricamente perché in realtà la gente si va, è chiuso da due anni, anzi più di due anni perché non c'è un affidamento, prima c'era una persona che lo gestiva e adesso non lo gestisce più nessuno e i cittadini giustamente hanno aperto la porta, ci sono entrati dentro, ci sono i bambini, c'è tutto. Sono delle cose anche abbastanza surreali, tipo le altalene senza altalene e ovviamente l'immondizia sta nella situazione in cui sta da tutte le parti. Però ecco, questa è un po' Roma, c'è un parco decoroso, fatto in origine bene, poi non finito, affidato, revocato l'affidamento e lasciato a se stesso finché i cittadini non se ne possessano e ci vanno, con tutti i rischi che ne conseguono, è Roma.